Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come state? Spero molto bene, oggi sono qua per fare un video dove ripeto alcune parole triggerose, ne ho qua, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, vedremo se riusciremo a farle tutte, intanto farò un sacco di hands movements qua davanti la fotocamera, ovvero davanti il vostro viso, che ne dite? Secondo me può essere carino, quindi mi raccomando, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi nel vostro letto e, non lo so, create anche voi una situazione di comfort, di morbidezza, di relax in generale, va bene? Così magari riuscite anche ad addormentarvi, ok? Quindi io vi voglio innanzitutto dire che nel caso sentiste sottofondo qualche suono è perché fuori sta piovendo, e quindi, come dire, la pioggia non possiamo fermarla per registrare, quindi se sentite qualche strano suono è la pioggia che sta cadendo fuori da casa qua, dove sto? Quindi, questo è, va bene? Allora, ho selezionato alcune parole, alcune magari me le avrete già sentite fare, altre forse no. Iniziamo da una classica trottola, 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 trottola. Trottola, trottola. Trottola, trottola, trottola. Trottola, trottola. Seconda parola costellazione 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 Peonia 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 Guarda Trabocchetto 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 tra pochetto poi acquario il mio segno zodiacale acquario 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 apprezziamolo 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 Coco 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 cocco Cocco Prossima Splendore 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 croquette 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 tranquillo è tutto ok tranquillo è tutto ok tranquillo è tutto ok tranquillo è tutto ok 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 amuleto è tutto ok 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 Clarinetto Ok, penso che per oggi possa bastare così, fatemi sapere tutto quello che pensate su questo video, va bene? Io ora dico, ora tocca a voi, iscrivetevi al canale se siete nuovi, non lo avete ancora fatto, mi raccomando è gratuito e almeno mi aiutate a far crescere questa piccola community che abbiamo creato. Siamo quasi arrivati a 3.000 iscritti, mancano ancora un pochino di iscritti, ma ci siamo quasi, dai. Il video di oggi finisce qui, perciò lascia un like, un bel commento se hai un po' di tempo e se tu vuoi stare ancora insieme a me, Clicca sul tasto per andare al mio canale e puoi vedere tutti i video e tutti gli shorts che vuoi. Io spero di averti tenuto compagnia, quindi ti mando un grande bacio e buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.